eccoci qua con questo nuovo video che andiamo avanti a proporre a farvi vedere una delle tante collezioni che abbiamo qua in redazione nel caffè avevamo portato l'episodio 1 peso 2 e questa volta riporteremo l'episodio 3 star wars la vendetta dei sit gli eroi del fumetto di panorama come sempre vi ricordo che questa era una collana che era uscita nel 2007 se non ricordo male inerente ad i sei film di star wars quindi i tre prequel e i tre classici trasposti in fumetto quindi trovate nel canale sia il primo dell'episodio 1 dell'episodio 2 e adesso andiamo a vedere quello di episodio 3 che guarda caso era uscito 32 anni fa perché 2005 2007 quindi questa collana è uscita veramente due anni dopo l'episodio 3 la saga di star wars continua in lato scuro della forza prevale nel terzo e cruciale capitolo a fumetti dell'epoca ideata da george lucas in collaborazione naturalmente con panini comics distribuita naturalmente allegato al panorama di quegli anni andiamo a vedere questo terzo volume allora vediamo un po cosa abbiamo qua una eruzione di effetti speciali ed effettivamente è così perché il film parte veramente con un botto di effetti speciali con la famosa battaglia su corosan o meglio sull'orbita di corosan la fine solo l'inizio qua abbiamo un po l'introduzione del terzo film di giorgio lavagna anche i precedenti lucas film passato e futuro di giorgio lavagna sempre gli autori e andiamo a vedere questo terzo volume allora e devo dirvi che il terzo volume i disegni e le immagini sono fatte molto molto bene qua è la battaglia famosa che vi dicevo prima su l'orbita di corosan che opi one ed anakin stanno cercando di salvare il cancelliere palpati palpatine come volete per chiamarlo il conto il sospeso con il buon conte duco dopo episodio 2 che aveva ammuzzato il braccio da anakin qui abbiamo l'altra sfida vediamo come arriverà guardate che questa bellissima immagine di anakin con la spada che veramente ha tagliato la mano al conto e duco oddio non ricordo se sul film gli taglia la mano e dico la verità questa non me la ricordo però nel fumetto è palesemente forse sì mi pare sì che gli taglia la mano è quel discorso di vendetta no come tagliato la mano ma io taglio mano a te mi ricordo che c'è quella posa a forbice sulla testa di duco e abbiamo questa brutta bella immagine di duco che praticamente morto decrepito già inizio film fa una brutta fine anche perché volendo il tempo stringe in un film di arrivare un po all'inizio di episodio 4 poi sappiamo come andata avanti la storia vedo che mi pare che r2 è stato un po eliminato in questa parte ma ci può stare perché oltre a loro due dovrebbe esserci anche r2 che fa r2 alla fine per salvarli mi pare che non appare da nessuna parte vediamo un po che ha un po quella di stiputa con i droghi di battaglia no r2 è un po assente in questa parte ma ci sta anche perché devono narrare in versione fumetto quindi però volevo vedere un po l'ascensore discorso scendere sensore come escono il generale grievous tra l'altro apparizione di grievous nel film che lui fugge loro fuggono alla fine r2 si è un po assente r2 ok quindi atterraggio di anakin verso corosan con i pompieri eccolo guardia due ho messo qua eccolo qua scendere due bb dai qualcosina l'hanno messo da r2 dopo alla fine però diciamo è presente va bene va bene l'atterraggio non tanto buono senatore è tornato a casa il buon giorgiare che c'è anche mi parla nel film quel cammino estetico l'abbraccio tra anakin e padme che è ritornato tra di lui grievous con il vice re ed il non è ancora imperatore quindi ancora dark sidious tra tutti gli effetti andiamo avanti l'incubo l'incubo di anakin di sua madre con padme con pancione si sa come mai un pancione questa anakin nessuno se ne mi ha chiesto il consiglio dei gedi un micro consiglio dei gedi in privè tra iodo b1 e maestro windu dark sidious che comincia a infiltrarsi nella mente di anakin la senatrice sono curioso vedere l'ordine 66 come è stato trasposto abbiamo le varie discussioni sappiamo che l'esercito di clone o mai intanto l'esercito della repubblica famosa scena che qua viene rivelato poteva salvare gli altri della morte ma non se stesso è possibile prendere questo potere guardate anche l'immagine di anakin disegno molto un disegno molto artistico insomma quasi così un quadro su alcune scene ma intanto obi wan va sul pianeta utopia dove dovrebbe fare la sua ultima fine bellissima anche questa immagine con il veicolo che andrà a cercare il generale gris che lo troverà e ci sarà il fantastico saluto diciamo che è stata un po tagliata tutta la scena perché qua praticamente arriva subito da gris è molto molto più rapido famoso colpo di obi wan un po alla indiana jones qua praticamente già finito tutto però ci sta mio maestro mi ha segnato tutto anche la natura del lato scuro quindi siamo proprio alla rivelazione di lord sidious chi è ad anakin perlomeno e in teoria dovrebbe esserci tutto un combattimento prima dell'ordine 66 io vedo questa scena qua invia un messaggio a coro san generale gris è morto sì ok si vede che hanno cambiato le cose c'è la scena bellissima di maestro windu con gli altri maestri contro d'arxidius anakin si coinvolto perché sapeva la verità e quindi va a salvarli guardate anche la trasformazione finalmente in palpatine non sei uno l'oro di anakin aiutami manca la frase che io adoro tantissimo potere illimitato potere maestro windu che grazie di vederci se ne va dalla finestra chissà mai se tornerà con la sua spada viola e qua abbiamo la nascita un po di anakin o la conversione quindi la morte di anakin skywalker diventerà dark vener o veder come volete guardate anche l'immagine imperatore fatta molto molto bene e qua parte l'ordine 66 non c'è la scena che lui comunica l'ordine 66 quando l'ordine vai al tempio giri fai ciò che devi lord fener e non avere pietà poi recati nel sistema mustafar distruggi leader separatisti e basta ancora ok hanno messo qualche e ancora una volta e si domineranno la galassia e avremo la pace eseguite l'ordine 66 sarà fatto mio signore e qua il buon codi e qua abbiamo tutta la scena lo sterminio effettivo dei gedi soldi nell'ordine 66 che poi vedendo i prodotti ce ne sono più vivi che morti c'è una novità sto vedendo una novità l'attacco ad obi one i walkie che yoda tra l'altro yoda è nel pianeta dei walkie non viene mostrato niente fino adesso sono a parte il combattimento qua per essere una battaglia effettivamente le battaglie sul fumetto è difficile portarle trasporle abbiamo questa bellissima scena di questo gedi che nel film non appare ma in eccitato nella serie tv di obi one tra le altre cose è un personaggio abbastanza interessante abbiamo un po la rivolta tra i walkie giubbe e i cloni per i croni si sono rivoltati lo sterminio di anakin che arriva con i famosi bambini c'è di molto più alleggerita la cosa molto più leggerita padme che chiede anakin cos'è successo senatore organa che è bene o male contatta i vari gedi comunicando che tempio è stato attaccato io da che parte quindi io da conoscevo giubbe preferivamente giubbe nel conto più io da appena o meno qua abbiamo bene o male dark fener che sarebbe stato così dark fener tutti gli effetti e non come lo conosciamo perché diventerà la macchina per quello che succederà però specialmente sarebbe stato un dark un sit tutti gli effetti con le lenti con gli occhi rossi e gialli qua è la fine dei separatisti lo sterminio guardate che bellissima sta immagine di anakin passato al lato oscuro e qua abbiamo la nascita dell'impero quindi ufficializzando che il cancelliere sono le colomare diventa ufficialmente impero e che i gedi erano dei tacabrighe per chiamare così quindi erano i cattivi e quindi i gedi saranno sterminati e quindi nascerà non più la repubblica ma il nuovo impero la guerra è finita i separatisti sono stati eliminati e la ribellione dei gedi è stata soffocata che poi ce ne sono un botto di vivi in giro per la galassia e siamo alle soglie di un nuovo inizio e per garantire la nostra sicurezza e stabilità la repubblica sarà risuronizzata nel primo impero galattico quanto è bella quella frase che viene detta un impero che continuerà a essere governato da questo corpo angusto e da un sovrano assoluto diciamo che siamo posati alla monarchia in questo caso è così che muore la libertà fra applausi scroscianti alla nostra padme abbiamo obi wang che ritorna al tempio conosce anche un po di sterminio qua scopriamo che il tempio dei gedi hanno le telecamere di sorveglianza e quindi hanno ripreso che il suo padua che poi era già maestro qua anakin ha fatto lui lo sterminio è passato anche c'è un po dei spioni però sti geni perché hanno anche le telecamere nella stanza dell'imperatore questa cosa qua è discutibile perché vediamo che vede anche la nascita del passaggio del lato oscuro quindi hanno le telecamere anche nell'ufficio dell'imperatore sono dei spioni sono dei stalker stigeni distruggere sit e noi dobbiamo quindi yoda e obi wang andranno verso l'ultimo attacco padme mai distrutta abbiamo bellissimo combattimento che io adoro tantissimo tra il l'imperatore e yoda anakin che va su mustafa per completare la sua missione e poi c'è obi wang all'interno della nave lui incazzoso e comincia già a fare la mossa di soffocamento non che conosciamo più avanti e qua dovrebbe partire il doppio duello quindi il due lo tra yoda e patti e obi wang e anakin combattimento spettacolare tutti e due uno su mustafa e uno su coru san c3 pio che prende padme la porta sulla nave insieme a re 2 anche queste immagini qua è bellissima ragazze queste immagini quali palpatine bellissima io da cresce a fuggire con il senatore organa qua abbiamo tutta questa scena su vulcano meglio sul pianeta di mustafa finché arriviamo al decespugliamento di anakin e quindi viene tagliato il braccio sinistro alle due gambe perché braccio destro finalmente è stato tagliato da duc e lasciato lì a morire e sono più in alto di te vediamo se c'è la battuta sono più in alto di te no non c'è non l'hanno messa era il prescelto è stato predetto che avresti distrutto i sit e non che ti saresti unito loro brividi ragazzi eri mio fratello anakin ti voglio bene ma non ti aiuterò e dopo ci abbiamo il ti odio poi abbiamo un po già che liberatore che arriva a salvare il corpo il ritrovamento di yoda organa e obi wan che ritorneranno con padme perché darà alla nascita due gemelli che è un porto velocissimo perché vedo qua non molare padme con obi wan e una bambina lei la subito è un maschio più ok è una femmina che senso non tornano i conti scusate non non molare padme è una bambina quindi dal nome leila è un maschio quindi dal nome luke e perché dopo c'è è una femmina i tuoi figli hanno bisogno di te padme obi wan c'è ancora del bene in lui cosa fare di questi gemelli quindi uno andrà a corosan e uno andrà con il senatore organa e sapete la storia mai la sapete intanto il nostro non c'è neanche la trasformazione di anarchy sperava una scenetta in fener o meglio in fener robot in questo caso la scena bellissima di della nascita del corpo del nuovo corpo lord vedermi senti dove padme sta bene temo che sia morta pare che nel pare che folle di rabbia tu l'abbia uccisa con la battuta diversa il film in confondo e poi c'è il fantastico guardate questa immagine con l'imperatore dietro che guarda la nascita intanto io dava su dagobar che poi questa scena è stata tagliata nel film se non ricordo male c'è una scena tagliata nel blu che lui fa l'atterraggio su dagobar e la morte nera che comincia a essere costruita con tarkin tra l'altro aldera con leila è il senatore e alla fine arriviamo a tattoo in dove luke vedrà i due soli con ovvio che lo velirà sulle sue avventure dopo di che abbiamo un po di novità se primi due avevamo solamente la storia di film qua abbiamo anche qualche altra storia e si chiama grazie al creatore una storia uscita penso non c'è scritto quanto tempo fa no testi disegni traduzione che come vedete l'immagine c'è già boba fett con la costruzione c3p o a pezzi quindi dovreste ricordarvi qualcosa come questo disegno qua di che pianeta stiamo parlando quello di lando è praticamente è una storia di c3p o come nato quindi il quando ricordate su best pin c3p o venne distrutto da uno star trooper e poi lo verrà trovato giu becca in quello c'è questo mini storia che nada quel micro incontro tra fener che ricordo che il creatore di c3p o e quindi c'è questa bellissima micro storia con alcune scene di come lui ha dato forma e vita al c3p o che è proprio quello che ha in mano però in teoria non dovrebbe sapere e quindi c'è questa storia di come ha trovato il corpo di c3p o come l'ha rivestito eccetera 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 per dopo arrivare brumare a collegarci alla scena del film con vari ricordi anche la madre dopo verrà trovato da giu becetera eccetera eccetera lo ributta lì giu bello troverà nei rottami con i operatori di best pin e lo ricostruerà no oddio non tanto che sono mette sulle spalle e se lo porta in giro e qua abbiamo finito quindi grazie al creatore questa storia eccola qua del 2000 quindi recente più o meno presa da star wars tale 6 dovrebbe essere cana a tutti gli effetti è tutta la storia della vendetta di 7 quindi più o meno siamo sulle 90 pagine prossimo video su questa colana sarà episodio 4 una nuova speranza che sono molto molto curioso da a recuperare perché non mi ricordo niente e penso che siano i fumetti ancora più precedenti di questi dei primi tre episodi quindi vedremo col video come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace condividete se avete domande curiosità non fatevi problemi scrivete nei commenti mettete un like che non costa niente per noi è molto molto importante e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao